ultimo giorno al residence di macari presso san vitolo capo in sicilia allora piscina sulla destra abbiamo i monti e sulla sinistra abbiamo il mare ecco i monti buongiorno la nostra stanzetta il nostro nido e lei la nida che ancora dorme la nida saluta almeno saluta ciao a tutti dai saluta a tutti domanda a chiara saluta a chiara francesca a tutti scusa cos'è che hai detto voglio rimanere qui e francesca chiara non voglio partire mai più ah te li vuoi portare qui qua sembra le dormiti con il mare